buongiorno bentrovati di nuovo a tutti a una nuova puntata del nostro we cut e we cut con you cut allora fantastico prosegue il nostro cammino il signore ci accompagna lasciamoci dunque guidare possano questi essere sempre piccoli spunti e poi dopo ci mancherebbe il bello è continuare insieme la preghiera l'ascolto del vangelo dal vivo è la parola del signore la bellezza anche insomma frequentare la scuola le relazioni gli amici ma insomma queste sono pur sempre pillole che che possono dare uno spunto e un accompagnamento buono allora la nostra preghiera che ci fa essere desiderosi è di ascoltare essere attenti è sulla strada che che il signore ci propone nel nome del padre del figlio e dello spirito santo padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male ame nel nome del padre del figlio e dello spirito santo bene carissimi bimbi ragazzi genitori catechisti tutti quanti allora proseguiamo insieme il nostro cammino stiamo così meditando e guardando insieme alla passione di gesù il suo amore per noi che arriva a tanto e arriva davvero a dare tutto allora oggi vedete sono argomenti grandi facciamoci piccini eh dinanzi a tutto questo la quaresima ci aiuta torno appunto a dirvi gli appuntamenti che che si distendono lungo le singole settimane di quaresima ci aiutano ecco perché ogni domenica davvero è un appuntamento prezioso un appuntamento da 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 goderci come proprio un invito del signore che si dona a noi e ci dona la sua parola che è davvero la scuola giusta il sentiero giusto è la via vera la verità è la vita gesù lo dice via verità vita allora è quello l'importante ci vengono dipanati i misteri tutti della nostra salvezza nella nostra vita in quello che viviamo per cui ben venga è anche così una piccola riflessione volgendo lo sguardo a chi patisce sulla croce per noi al signore gesù ecco in questo momento questo ci sta riguardando ecco come piccole catechesi che facciamo però appunto nella consapevolezza che il signore è sempre con noi allora ecco la comunione che faccio alla domenica la preghiera che dico in casa col papà con la mamma mi aiutano mi aiutano a far scendere a praticare tutte queste cose è nella mia quotidianità per cui la quaresima è davvero un tempo favorevole è per soffermarsi anche su queste meditazioni e riflessioni allora la croce di gesù c'è una domanda ci potremmo porre quindi abbiamo visto come il processo gesù patisce sotto ponzio pilato ingiustamente viene arrestato condannato un pochino abbandonato da tutti condannato alla morte di croce è la morte più infamante è la morte dei dei peggio criminali e diremmo e allora anche i suoi discepoli si spaventano davanti a questo e scappano gesù dunque non aveva più amici ebbene quando è iniziata la passione di gesù è ormai questa questa parola ci stiamo prendendo confidenza e non è da prendersi tanto alla leggera è la passione di gesù può quasi appunto a prima vista spaventare tanto che tutti lo abbandonano i suoi migliori amici lo hanno abbandonato almeno in quel momento è quando gesù è stato crocifisso solo pochi erano ancora lì presenti c'erano alcune donne c'era la mamma di gesù maria che proprio sotto la croce diventa anche la nostra mamma gesù la fida a ciascuno di noi e dice a ciascuno di noi eccoli la tua mamma affidati a lei io ti affido a lei mamma io a te affido tutti questi figli che meraviglia e poi uno solo fra i discepoli c'era sapete chi il più giovane di tutti il più giovane dei dodici chi è provate un po vedere ve lo dico giovanni il discepolo di gesù giovanni un ragazzo è all'epoca dei fatti del vangelo è l'unico che viene lì tanto che lui accoglierà maria con sé è nella sua casa gesù gliela consegna e nel discepolo che gesù amava che è giovanni ci siamo ciascuno di noi i discepoli addirittura quando gesù va nell'orto degli ulivi e chiede che gli stiano vicini che gli facciano compagnia perché la sua anima è molto turbata lui sente gesù il peso di tutto il peccato dell'umanità di tutto il peccato del mondo e deve affidarsi al padre deve fare un grande atto di obbedienza ma chiede l'amicizia di loro che stiano con lui ebbene lo sappiamo dai vangeli gli discepoli si addormentano e non riescono a vegliare con lui lo lasciano lo lasciano solo giuda uno dei dogi al quale pure gesù voleva bene nell'ultima scena anche giuda lo tiene vicino gli passa il boccone diciamo un gesto di grande affetto ecco di privilegio quasi lo tiene lì vicino ebbene lo tradisce lo tradisce per denaro l'anima ecco può corrompersi vedete come anche nelle persone più vicine a gesù ci sono gli stati d'animo di ciascuno di noi chi si spaventa chi non lo riconosce più chi preferisce nascondersi come anche pietro che arriva a rinnegare gesù dire no 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 non lo conosco per non avere a che fare con qualche cosa di brutto di impegnativo come l'arresto e la condanna di gesù stesso ma in tutto questo come si comporta il signore sempre con amore continuando a guardare a tenere la sua porta la sua porta aperta è per tutti noi per cui ecco percorrere gli eventi della passione di gesù e ripeto la quaresima ce ne dà l'occasione quindi riserviamolo ai vari momenti e arriveremo poi al completarsi del cammino della quaresima a quella che si chiama la settimana santa nella quale rivivere momento per momento giorno per giorno i momenti stessi appunto della passione del signore gesù fino ad arrivare proprio sulla croce ebbene allora ma gesù che è il figlio di dio il figlio dell'onnipotente vero uomo ma vero dio è morto davvero sulla croce sì gesù muore il venerdì è il venerdì prima del sabato il sabato è la festa per il popolo di israele era il giorno prima della pasqua ebraica che ha un nome un po complicato la parasceve cioè il giorno che precede la pasqua degli ebrei gli ebrei ricordano anche loro la parola pasqua significa passaggio un passaggio attraverso qualche cosa cosa di cosa facevano memoria gli ebrei del passaggio del mar rosso quando mosè libera tutto il popolo di israele che era schiavo in egitto e gli fa passare miracolosamente attraverso il mar rosso che si apre e loro lo possono attraversare per entrare poi nella terra promessa allora è un passaggio dalla schiavitù alla libertà il signore gesù questo passaggio lo incarna lo vive su se stesso facendoci passare allora non più soltanto da una schiavitù umana si direbbe no gli ebrei schiavi degli egiziani che poi entrano nella terra promessa ma ben di più ci fa passare dal peccato che porta alla morte alla redenzione alla salvezza alla libertà dunque dei figli di dio tutto il popolo dei battezzati che siamo redenti e allora ogni sacramento scaturisce dalla croce ogni sacramento è innaffiato si direbbe realmente del sangue di gesù che è la vita l'amore stesso donato per noi e quindi è in grado di farci sempre nuovi e farci sempre risorgere perché è dalla croce che si risorge alla vita eterna e qui già anticipiamo ma è molto bello allora oggi in questa puntata di oggi noi siamo ai piedi della croce e ecco cerchiamo così di figurarlo di stare un pochino raccolti in preghiera troviamo grande frastuono persone che continuano ad offendere gesù vediamo però anche il buon ladrone no in mezzo ai due ladroni gesù viene crocifisso e uno di loro si converte cioè guarda gesù di nuovo con con speranza con fiducia e dice è giusto che io riceva la punizione per le malefatte che ho commesso tu sei innocente signore ricordati di me quando entrerai in paradiso il signore ha parole proprio di perdono sulle sue labbra morenti così sulla croce affiora questa parola bellissima paradiso oggi con me in paradiso allora pensiamoci ai piedi della croce c'è tutto questo c'è la paura c'è la morte c'è il dolore fisico ma c'è paradiso c'è perdono c'è lo sguardo dolce buono di gesù che ci affida alla sua mamma che diventa la nostra mamma maria e allora ci fa bene in questo sguardo ecco stare un pochino così allora vi leggo un pezzettino del vangelo di giovanni che ci fa essere proprio lì stavano presso la croce di gesù sua madre la sorella di sua madre maria madre di cleopa e maria di magdala gesù allora vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che gli amava disse alla madre donna ecco tuo figlio poi disse al discepolo ecco tua madre e da quell'ora il discepolo l'accolse con sé e ci siamo tutti noi maria c'è donata sempre per la nostra vita guardare a lei con fiducia dopo questo gesù sapendo che ormai tutto era compiuto affinché si compisse la scrittura disse ho sete vi era lì un vaso pieno di aceto posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca dopo aver preso l'aceto gesù disse è compiuto e chinato il capo consegnò lo spirito e spirò morì consegnò allo spirito l'estremo dono che il signore fa è lo spirito santo stesso e che noi riceviamo in dono nella morte stessa sulla croce del signore gesù ecco in questo momento davvero si fece buio su tutta la terra in questo momento gesù il figlio di dio muore sulla croce realmente è il cuore letteralmente si si spacca è il cuore in questa tensione fra l'amore al padre e l'amore agli uomini viene viene spaccato e dona tutto di sé tanto che il centurione con la lancia trafigge il costato di gesù ci dice sempre giovanni subito ne uscì sangue ed acqua sono segni sicuramente ma sono cose anche reali di chi ha dato tutto è avversato tutto il suo sangue come dire tutto il suo amore tutta la sua vita per noi ci dice giovanni chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera egli sa che dice il vero perché anche voi crediate ecco allora per noi carissimi in modo semplice siamo piccolini essere ai piedi della croce di gesù oggi è per ravvivare la nostra fede ci dice l'apostolo giovanni perché anche voi crediate io ora ai piedi di quella croce ho veduto sangue d'acqua ecco è il segno proprio di tutti i sacramenti che ci annaffiano che sono è la nascita della chiesa è la nascita della della storia di ciascuno di noi è dal cuore stesso di gesù che che è la nostra salvezza e allora oggi abbiamo guardato insieme alla alla croce lasciamoci dunque accompagnare dal signore siamo sempre più nel vivo della quaresima vorrei ecco così lasciarvi bambini soprattutto a voi con delle parole belle piene di speranza sentiamole proprio come la parola buona che ci è rivolta per rinnovare è un pochino quei propositi che si dicevano prima del mercoledì delle ceneri vi ricordate cercare di essere gentili cercare di avere qualche qualche gesto di bontà di gentilezza anche nel linguaggio negli atteggiamenti non con gli altri questa è la nostra via semplice e molto praticabile per attrezzarci è nel cammino di conversione che è questa quaresima che che ci sta davanti nella quale stiamo pienamente camminando e allora sentite queste parole le scrive san paolo nella lettera agli efesini possono essere proprio molto molto ad hoc è da da ricevere proprio nel nostro cuore sentite un po nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione giovando a quelli che ascoltano c'è sempre qualcuno che ascolta e se io dico una parola buona questa farà sempre bene vedete si parla addirittura una parola grande di edificare gli altri wow posso fare del bene posso fare un'opera di carità anche con il mio atteggiamento e scegliendo di dire no alle parolacce alle sgarbatezze alla maleducazione scegliendo di dire sì invece alle cose buone semplici che sono molto utili a chi le dice e anche a chi le riceve e poi sentite scompaia da voi ogni asprezza sdegno ira clamore maldicenza con ogni sorta di malignità è le magagnette oppure quell'essere sempre un po arrabbiatelli sempre un po capricciosi anche senza bisogno di arrivare a grandi cose ma insomma quella asprezza ecco quell'ira mi sento sempre un po che intenzione lasciamoci aiutare dal signore lui fa piazza pulita ci dice proprio scompaiano da voi queste cose siate invece benevoli o tutti pieni di bontà benevoli gli uni verso gli altri misericordiosi perdonandovi a vicenda come dio ha perdonato a voi in cristo e vedete come siamo portati in alto in alto addirittura sulla croce come dio ha perdonato e perdona sempre a noi in cristo gesù che ci perdona muore amando e muore sulla croce perdonandoci tutti allora anche noi possiamo perdonarci gli uni gli altri e possiamo ricevendo il suo perdono chiederlo sempre riceverlo sempre e nello stesso tempo ecco donarlo agli altri e ci accompagna allora questa questa parola bella il signore gesù che contempliamo pieno d'amore è sulla croce per ciascuno di noi e allora avanti così riceviamo la madonna come madre dalla croce in questa quaresima ora più che mai ci accompagni lei è la madonna che madre della chiesa e regina delle famiglie ed è stella davvero guida del nostro cammino del cammino di ciascuno di noi e allora con un grande abbraccio una bella benedizione e le parole più belle vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata un grande abbraccio a tutti